Buongiorno, con questo video ti mostrerò quali sono le procedure che dovrai seguire per compilare in autonomia, in modo semplice, veloce e soprattutto gratuitamente, la tua dichiarazione dei redditi, il tuo 730 2015. Ti mostrerò quali sono le risorse che l'Agenzia delle Entrate, sempre gratuitamente, mette a disposizione di tutti i contribuenti, come fare per utilizzare queste risorse e poi quali saranno gli adempimenti che dovrai seguire per poter presentare a un qualsiasi CAF, sempre gratuitamente. Se lo preferirai ti mostrerò come inviarci a noi la documentazione che tu hai preparato e poi penseremo noi a inviare direttamente al CAF centrale il tuo 730 2015. Naturalmente, se durante la visione di questo video deciderai comunque di avvalerti della nostra assistenza fiscale, penseremo noi alla compilazione del tuo modello 730 ordinario al relativo invio e con lo stipendo di luglio riceverai il rimborso in caso di credito oppure ti verrà fatta una trattenuta in caso di debito. Approfitto di un paio di minuti di questo corso per presentarmi. Io mi chiamo Giuseppe Cagli, mi occupo di consulenza fiscale per piccole e medie imprese, piccole e medie contabilità di paghi e contributi, quindi corsi sulla gestione dell'ufficio amministrativo, sulla gestione dell'ufficio del personale, sulla compilazione del cedolino paga, eccetera. Inoltre sono associato CAF CNDL, pertanto sono autorizzato dal CAF centrale di Ancona a offrire a te e a tutti coloro che ne hanno necessità l'assistenza fiscale necessaria per la compilazione della dichiarazione dei renditi. Pertanto, se sei d'accordo, iniziamo subito a mostrarti quali sono le operazioni attualizzate con le normative del 2015 per la compilazione del modello 730 2015 precompilato.